Google cala in borsa per effetto della maxi multa da 2,42 miliardi di euro combinata dall'Europa. Alphabet, la holding a cui fa capo il colosso Google, ha registrato a Wall Street una perdita di oltre il 3% e un utile netto di 3,52 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 4,88 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso, effetto dell'iscrizione a bilancio di una svalutazione da 2,7 miliardi di dollari per far fronte alla maxi ammenda imposta dall'Unione Europea alla società americana, ritenuta responsabile di aver abusato della propria posizione dominante, favorendo su internet i propri servizi di Google Shopping.